Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Per prima cosa un grande ringraziamento a Marco, Luca, Matteo, Andrea e Cristian, 5 nuovi abbonati alle mie video lezioni. Grazie anche a tutti gli abbonati storici, il numero degli abbonati alle mie lezioni continua a crescere di mese in mese. Avevo promesso una nuova lezione al mese e quando ho potuto, in questo anno ne ho fatte anche due, sto però già studiando come potenziare ancora di più l'offerta delle lezioni, quindi rimanete abbonati perché l'offerta del 2022 sarà ancora più ricca. Finito il Mondiale Rapid, iniziamo a guardare insieme cosa è successo al Mondiale Blitz. Un torneo adrenalinico composto da 23 turni da giocare in due giorni di partite a 3 minuti più 2 secondi di incremento per mossa. Un torneo dove può succedere di tutto. E noi iniziamo col botto perché stiamo per guardare insieme la partita tra il forte e grande maestro polacco socio e Magnus Karzen, giocata al quinto turno. Partiamo! Socio di bianco apre la partita con d4, Karzen risponde con cavallo in f6. C4 e 6, cavallo in f3, la spinta al centro in d5, con g3 che apre il fianchetto siamo nella catalana. Allora cosa fa Karzen? Gioca al fiere in b4 con scacco. Ora, questo alfiere campo scuro del nero sta bene in e7. Come mai allora viene giocato in b4 con scacco? Viene giocato in b4 per costringere il bianco a giocare alfiere in d2. Vedete, freccia gialla non giocata da socio. A questo punto che il bianco ha messo l'alfiere in d2, il nero torna con l'alfiere sulla sua casa preferita lasciando al bianco questo alfiere in una posizione un po' scomoda. Ritorniamo a noi, ma socio non lo mette quell'alfiere in d2 e invece sviluppa il cavallo in d2. Allora, Rocco corto per Karzen si completa il fianchetto con l'alfiere in g2. Vedete, questa rimane una catalana chiusa perché il nero non accetta il pedone. Oppure, non è che non accetta, non cattura il pedone. Con b6 si vogliono fare due cose, sia spingere in c5 se è possibile, che anche portare l'alfiere chiaro in fianchetto. A Rocco corto anche per il bianco, alfiere in b7. Ora, con il salto del cavallo in e5 si libera la diagonale del forte alfiere chiaro. E attenzione, ora non si può veramente più catturare perché se no si perde questo alfiere in b7. Quindi questo salto del cavallo inchioda il pedone in d5. Allora, cosa fa Karzen? Protegge, oppure proteggendo con donna in c8 questo alfiere chiaro, schioda il pedone. Allora, donna in c2, d per c4, il bianco riprende col cavallo, si è però aperta la diagonale chiara, è giusto che il nero, che Karzen, gli tolga, gli cambi questo forte alfiere. Quindi alfiere cattura in g2, il re ricattura, donna in b7 con scacco, migliora la posizione della donna. Nelle due partite che rimangano nel mio database, il bianco ha sempre giocato l'ottima f3, quindi per coprirsi dallo scacco col pedone, magari in futuro anche per supportare una spinta al centro in e4. Socio invece gioca un'altra buona mossa, re in g1, che è una novità e rende alla mossa 12 la partita originale. Allora, torre in d8 di Karzen attacca il pedone centrale, torre in d1 arriva h6. E che cosa fa quest'h6? Impedisce che l'alfiere possa essere sviluppato in g5, però questo alfiere si deve comunque muovere, deve comunque essere sviluppato per connettere le torri. E allora Socio lo piazza in f4, anche Karzen completa lo sviluppo con il salto del cavallo in b, che va in d7, torre in a, che va in c1. Attenzione, perché c'è tanta pressione su questa casa c7, Karzen gioca torre in a, che va in c8. Proprio a proteggere questa casa c7, ma questo è un errore, che in una blitz si vede male. Qual è secondo voi il problema di Karzen? Pensateci un attimino. Ve lo dico, alla fine della fase di apertura, perché ora qui l'apertura è finita, cosa è successo? Che è successo? Che questo alfiere campo scuro di Karzen, che si sarebbe dovuto trovare in e7, e invece si trova sospeso in campo avversario e quindi diventa un bersaglio. Socio lo attacca con donna in b3. Come mai Karzen non lo riporta indietro in f8 oppure in e7? Andiamo a vedere che succede dopo alfiere in f8, ma sarebbe stata identica la posizione dopo alfiere in e7. Questa donna, che stava bene dopo lo scacco, adesso diventa un problema, perché cavallo in a5 gioca sull'inchiodatura del pedone sulla donna sospesa. Attenzione che se la donna torna in b8, si prende la forchetta di cavallo. Tornando indietro in a8 la posizione diventa molto passiva, l'idea migliore, sembra la difficile in una blitz da trovare, donna in e4. Se il nero tenta il cambio donne, guardate che succede, donna per donna, il cavallo ricattura, arriva il cavallo in c6. Attenzione perché il cavallo sta attaccando la torre, unico difensore del cavallo già sotto attacco. Allora, cavallo per alfiere, il pedone g ricattura, bisogna assolutamente togliere il pezzo da questo attacco, se no si perde il pezzo. Quindi il cavallo che cattura in e5, ora non è che si perde il pezzo, ma diciamo in qualsiasi caso si vince la qualità, e infatti il bianco la vince con cavallo che cattura in d8, e quindi questa posizione è vincente per il bianco. Allora, dopo donna in b3, Karzen già si trova in forte difficoltà, e allora protegge l'alfiere spingendo in a5. Ma l'alfiere può essere attaccato con a3, e quindi se si torna indietro esce fuori, addirittura tornando indietro la solita minaccia di prima, vince già un pedone con la cattura del pedone in a5, e allora con l'alfiere sotto attacco Karzen minaccia il cavallo del bianco. Gioca b5, allora il cavallo che cattura in d7, il cavallo nero che ricattura, pedone che cattura l'alfiere in b4, il pedone di Karzen cattura il cavallo in c4, giustamente il bianco riprende di torre. Ora, cosa fa Karzen? Ricordiamoci, ora intanto siamo già alla mossa 20, Karzen vede un'opportunità tattica, allora che cosa fa? Gioca a4, ma ricordiamoci che qui l'ha vista al volo, questa a4 purtroppo perde un secondo pedone, perché dopo che la donna lo cattura, la forchetta cavallo in b6 non funziona. Ora, attenzione, come mai non funziona? Donna in b5, che sembrerebbe togliere la minaccia perché inchioda il cavallo, che quindi non può catturare la torre perché è inchiodato sulla donna, in realtà perde la partita dopo c6, gli rimangono due pezzi sotto attacco, ma dopo questa forchetta di cavallo in b6, il socio trova la mossa giusta, cioè donna in c6 attacca la donna, allora Karzen naturalmente due pedoni sotto, non vuole il cambio donne, la porta in a6. Torre sotto attacco, torna indietro in c2, di nuovo il cavallo non si può muovere perché è inchiodato sulla donna, la donna lo schioda, la donna di Karzen si muove in a2. Allora, in questa posizione il bianco gioca e4, che è la mossa più precisa, la mossa molto forte, più precisa della cattura in c7. Ritorniamo indietro, qui addirittura si può anche catturare con l'alfiere in c7, l'alfiere che cattura in c7 e minaccia poi la cattura del cavallo con la donna è giocabile, allora il cavallo si deve spostare, attacca il pezzo inchiodato sulla donna, donna in b7 e quindi qui spostandosi il pezzo è protetto, torri in f8, raddoppio delle torri ed il bianco rimane in posizione sicuramente vincente. Ma dopo e4, socio sta messo ancora meglio, donna in b3, attacca il pedone, donna in c3 di nuovo con due pedoni di vantaggio, il bianco protegge il pedone ma cerca il cambio donne, la donna deve di nuovo scappare, donna in a4, arriva b3, donna di nuovo sotto attacco, donna in a6, socio l'attacca con torre in a1, donna in b5, donna del bianco in c5. Di nuovo la donna deve scappare, donna in d3, quindi una fuga disperata, attenzione che attacca il pedone centrale e qui finalmente socio si decide a catturare il pedone in c7. Alfieri cattura in c7, minaccia anche il cavallo ma purtroppo la mossa 29 è un grave errore che riapre la partita. Siamo arrivati al nostro quizzone, guardate bene le debolezze nel campo bianco e trovate la migliore risposta a disposizione del nero. Ritorniamo alla nostra partita, torre in d7 attacca la prima delle due debolezze tattiche del bianco che è l'alfiere inchiodato sulla donna, che non può catturare il cavallo perché sta difendendo la torre che è la seconda debolezza tattica perché è un pezzo sotto attacco protetto invece che da un pedone soltanto da un pezzo e addirittura in questo caso protetto dalla donna. Ora qui si rischia di perdere la partita, il bianco si salva solamente perché spostando la torre in c3 riesce a guadagnare un tempo per attaccare la donna. Ma se la donna si sposta in d2, si ritorna nella solita posizione e quindi la cosa migliore da fare per il bianco è pattare avanti e indietro con la torre e con la donna per ripetizione. Ritorniamo a noi, ma come vedete Karzen non la trova e che cosa fa? Gioca donna che cattura il pedone centrale in e4. Allora questa mossa perde un pezzo pieno, in questo caso il cavallo, come mai? Perché è vero che catturando il cavallo si perde la torre ma il bianco si rifà subito sulla torre in d8. Quindi per evitare di semplificare in questa maniera Karzen guadagna un secondo pedone, torre e cattura in d8 ma intanto ha perso il cavallo cerca di mantenere più pezzi possibili sulla scacchiera. L'alfiere torna indietro in e5 e quindi qui per forza si arriva a delle semplificazioni torre in d1 con scacco la torre ricattura in d1 torre che cattura in c2 gli è rimasto al bianco l'alfiere sotto attacco lo difende socio con donna in d4 che minaccia g7 attacca anche la donna di nuovo il cambio donne sarebbe deleterio per il nero Karzen porta la donna in f3 allora alfiere che cattura in g7 ora torre che cattura in f2 donna per torre gli è rimasta la torre in presa donna che cattura in d1 con scacco donna in f1 mossa 36 anche per Karzen ora attenzione perché si potrebbe pensare al volo di cambiare le donne e di riprendersi il pezzo ma cambiare le donne perde la partita vediamolo velocemente donna per donna in f1 con scacco il re ricattura in f1 re che cattura in g7 ma guardate il pedone passato avanza b5 e vedete il re non entrerà mai nel quadrato il pedone promuove da solo senza l'aiuto del proprio re allora qui purtroppo per evitare il cambio donne Karzen è costretto a spostare questa donna e quindi a perdere un tempo socio salva l'alfiere alfiere in f6 dove è protetto dalla donna Karzen vince il pedoncino in b4 attacca anche quello in b3 ma socio lo difende con donna in f3 ora re in h7 donna in d3 con scacco rispinge il re di Karzen all'indietro re in g8 re in g2 donna in b7 con scacco donna in f3 donna in b4 re in h3 ora attenzione perché questo re è interessantissimo perché controllando la casa g4 che cosa si minaccia? si minaccia donna in g4 con scacco che forza il cambio donne quindi vince la partita allora il re si sposta per evitare lo scacco donna in d3 con scacco di nuovo lo rispinge indietro quindi re in g8 arriva g4 bella questa g4 perché che cosa fa? insieme all'alfiere crea un muro che dopo lo scacco di donna in d8 non permette al re nero poi di scappare in qualche maniera non c'è più niente da fare Karzen non trova di meglio che giocare donna in f4 che attacca l'alfiere ma dopo donna in d8 con scacco c'è il matto forzato Karzen naturalmente lo vede e quindi abbandona ma noi il matto lo diamo re in h7 mossa unica donna in h8 con scacco re in g6 di nuovo mossa unica donna in g7 scacco matto perché vedete il re non si può più muovere con questa sconfitta Karzen perde la vetta della classifica dove si insedia a solitario proprio Bartos socio sarà ve lo prima annuncio un torneo fantastico quindi se la partita vi è piaciuta non scordate il like ma soprattutto non scordate di iscrivervi al canale grazie tante per l'ascolto e noi ci vediamo domani con un nuovo video a presto grazie tante per l'ascolto grazie tante per l'ascolto grazie tante per l'ascolto grazie tante per l'ascolto grazie totale